Ricezione di Giavoronok, Orduna spinge al centro per Galassi. Palla sporca, si tuffa la gomcia! Primo tempo Galassi! Giavoronok, palla spinta da Orduna per Galassi. Sono un po' di situazioni problematiche, il quintatto Gianluca Galassi va a segno al centro. Non riesce neanche a poggiare in mezzo al campo, la difende facile Galassi, che poi si gioca quest'attacco. La decenzione di Federici, Orduna al centro, ancora da Galassi. Galassi intanto al centro, passa. Giavoronok, con la palla di Sintenna, spinge al centro per Galassi. Orduna al centro per Galassi, fulminato Bonami, che non credo abbia visto arrivare la palla. Galassi al centro, va ancora a segno. Orduna per Galassi, gestisce bene il primo tempo, anche molto ha spostato Cester, ha provato a prenderlo. Giavoronok, con il tacco al centro di Galassi. Giavoronok, preciso per il suo palleggiatore, arriva il punto al centro di Galassi. Giavoronok, con il primo tempo vincente di Gianluca Galassi. Giavoronok, con il tacco di Federici, Orduna al centro per Galassi. Senza se e senza ma, Galassi. Il miglior riso è in questo pacchiale. La copertura di Lagunizia e poi il bel primo tempo di Galassi. Un palleggio, primo tempo dietro per Gianluca Galassi, che passa alla retta di Fabio Ricci. Gare Lanza, che la tiene perfetta per Orduna, che apre subito un primo tempo, questa sette al centro per Gianluca Galassi. La tiene in palleggio, Lanza, Orduna trova Galassi. Giavoronok, panoramolok. Giavoronok, panoramolok. Giavoronok, panoramolok. Grazie.